Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 4 ottobre 2019, vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali. Innanzitutto fa ancora capolino sui giornali, ovviamente la manovra finanziaria, quella che non c'è e che stanno studiando i tecnici del Tesoro per quadrare. Ancora oggi mancano 5 miliardi, 2 miliardi per qualcun altro, come si farà fare tutta questa roba sull'erosione fiscale? Il Corriere della Sera decide di titolare manovra e ancora tensioni. Ferrera, un fondo molto interessante del Corriere della Sera dicendo che si possono fare alcune cose anche senza spendere soldi sull'istituzione, sulla formazione eccetera, dice però che la promessa fatta da questo Conte 2 di svolta sembra che verrà certamente smentita. Scrive una lettera a Matteo Renzi al Corriere della Sera e devo dire tutti quanti i Presidenti del Consiglio quando scrivono le lettere, fanno i pezzi, vengono intervistati da noi, ci dicono quanto siamo stati bravi noi nei nostri governi, lo ha fatto Renzi, lo ha fatto Berlusconi, Enrico Letta, tutti quanti dicono quanto sono stati bravi loro nei loro governi, evidentemente gli italiani non se ne sono accorti più di tanto, ma comunque sia non si può, dice Renzi in questa lettera, dice delle cose che sono assolutamente condivisibili, aumentare l'IVA per diminuire il cuneo fiscale, in realtà poi fa da una mazzatina al vecchio governo Letta, quello che ha preceduto Renzi, dicendo che Letta quando aumentò l'IVA ci fu un disastro economico, questo scrive Renzi oggi in una lettera al Corriere della Sera e dice che il vero punto è quello che è aumentata la spesa pubblica enormemente rispetto ai suoi governi e lì bisognerebbe agire. Per la verità la stessa identica cosa, anche se in termini ovviamente non renziani, la dice Alessandro Penati oggi su Repubblica, è sempre interessante l'economista Penati che dice che si sono disinnescate le clausole IVA anche quest'anno rimandando il problema Babbo Morto, il primo perché si è aumentato il deficit e il secondo perché si è inventata questa clausola di 7 miliardi sull'evasione a cui nessuno crede, bisognerebbe, dice lui, tagliare le spese fiscali, cioè tutte quelle detrazioni che valgono un centinaio di miliardi, bisognerebbe tagliarle tutte quante per tutti quanti e abbassare le tasse in funzione di quelle riduzioni delle spese fiscali, forse l'idea non è del tutto sbagliata, Ricolfi dice un'altra cosa oggi molto interessante sul messaggero riguardo a questa finanziaria, questa manovra dice che è il primo caso in cui un Nadef, cioè una nota di aggiornamento del documento economico e finanziario, non ci si capisce nulla, è del tutto evidente, dice Ricolfi, che questi vogliono fare ammuina. Nell'ammuina però ci sono un paio di cose che sembra che siano entrate in questa manovra e cioè che ci sarà l'obbligo per le famiglie, per i badati, di diventare sostituti d'imposto delle colfe e dei badanti, quindi sostanzialmente oltre a pagare i contributi ogni tre mesi con il cedulino dell'Inps, dobbiamo pagare, se abbiamo delle colfe o dei badanti, dobbiamo pagare anche le tasse per loro e questo vuol dire che su 15.000-16.000 Euro oggi calcola l'Assindad Colfe che è l'associazione più seria dei datori di lavoro, dei collaboratori domestici, su 16.000 Euro di stipendi anni che si danno le colfe si devono pagare 1.600 Euro di tasse che evidentemente si presume che le colfe non paghino e le dobbiamo pagare noi per loro, ma è evidente che cosa comporterà questo? Un aumento degli stipendi di 1.600 Euro, il che giusto o sbagliato che sia è quello che concretamente avverrà nelle nostre tasche e inoltre si toglieranno le detrazioni, sembra che si vada a togliere le famose detrazioni non quelle che dice Penati per tutti, soltanto per quelli che hanno più di 300.000 Euro di fatturato, però c'è un piccolo problema, che in Italia quanti sono questi signori? Li ha calcolati oggi Repubblica? Mi sembra che siano 38.000 persone, quindi non pensiamo forse di fare una manovra su 38.000 persone, perché è evidente che con loro ci facciamo molto poco. Cacopardo oggi è molto interessante, forse il pezzo migliore è quello di Italia oggi sui dazi americani che riguardano, alcuni dicono l'olio ma non è vero, il vino ma non è vero, in realtà riguardano alcuni formaggi che è comunque grave e altre questioni italiane per 480 milioni di Euro, la Coldiretti dice un miliardo, mi sembra più verosimile a questi 480 milioni di Euro, comunque grave, comunque pesante, ma Cacopardo dice una cosa sacrosanta oggi su Italia Oggi, siccome l'Italia negli ultimi anni con i suoi ministri degli esteri, a parte Ruggero, ma tutti gli altri, Martino e compagnia cantante, e sono stati sulla vicenda Airbus, molto più filo americani che filo europei, avrebbero dovuto spiegargli da Trump che noi sulla vicenda Airbus da cui nasce tutto, cioè gli aiuti che hanno dato all'Airbus di cui l'Italia non gliene fotteva assolutamente nulla, aiuti europei, insomma dice ma perché dobbiamo essere penalizzati quando siamo stati filo americani in Europa? Insomma questo è quello che scrive molto bene oggi Cacopardo, terrore a Parigi, ma la storia è incredibile, quello che avviene oggi lo raccontano tutti quanti i giornali, questo funzionario della polizia di Parigi che alla prefettura, cioè alla questura di Parigi, prende e improvvisamente con il suo coltello di ceramica, dopo si era appena convertito all'Islam, prende e accoltella quattro suoi colleghi, si era appena sposato con una donna islamica, pare secondo quello che dice Ralle Pen che erano mesi che non volesse stringere le mani alle donne nella questura, se così fosse, insomma prima dell'accoltellamento forse si avrebbero potuto pensare che a questo gli stava uscendo la brocca. Caso Consip è una cosa noiosissima e lunghissima, vi dico soltanto che la procuratrice Forleo, me la ricordate quella che venne considerata far casino, essere un mezza matta, non da me per carità, ma qua a Milano, decide di rinviare a giudizio Lotti e quindi aprire processo per lui, ma non per Scafarto che era quel capitano dei Carabinieri, guarda caso che aveva sconfuso Renzi con qualcun altro, insomma aveva inguaiato, però in quel caso è stato un errore del Carabiniere, mentre invece per quanto riguarda Lotti il processo inizia e l'unico complotto come titolo del fatto quotidiano è quello dei Renziani. Insomma su Fioramonti il giornale ieri, ve lo ricordate, ha tirato fuori tutte quante le frasi di Fioramonti che sono state piuttosto imbarazzanti, oggi ne è successa un'altra, c'è che il ministro di istituzione ha mandato il suo figlio in una scuola inglese, ma io non ci trovo nessuno scandalo francamente, ognuno la manda dove gli pare, ma se l'avesse fatto qualcun altro sarebbe successo un casino, cioè immagino che cosa sarebbe successo e che cosa avrebbero detto i grillini se avessi mandato un ministro di istituzione, Renziano avesse mandato suo figlio allo Chateau oppure l'avesse mandato all'International, sarebbe successo un casino della Madonna. Ma comunque lasciamo perdere la cosa grave di Fioramonti che ieri ha piagnucolato, questo piagnucolone dopo che ha fatto il fenomeno, fa il ministro e si è inventato una serie di cazzate inaudite, ieri ha detto, ve lo leggo benissimo, se questi metodi sono pensati per sfarmentarmi dico che andrò avanti. Quali sono i metodi? Un hashtag su Twitter che dicendo Fioramonti dimentiti il fatto che il giornale ha riportato le frasi di Fioramonti negli ultimi anni, questi sono i metodi? Fioramonti io vorrei ricordarti toc toc, sai che cosa hai detto? Io vorrei una bella Italia sarebbe quella in cui un Brunetta venisse preso a manganellate dai carabinieri. Allora tu piagnucoli, prima scrivi che Brunetta deve essere preso a manganellate e poi ti metti a piagnucolare, ma veramente, veramente, altro che Toninelli. Toninelli come diceva giustamente Sallusti lo rimpiangeremo rispetto a questo Fioramonti. Carola, racchete, si presenta al Parlamento europeo e che cosa succede? I parlamentari europei tutti in piedi ad applaudirla. Vergognatevi, vergognatevi due volte, vergognatevi per quello che dice oggi Chiara Giannini sul giornale, perché fate orrore europarlamentari europei che ha applaudito una persona che ha speronato una barca della Guardia di Finanza italiana e per di più ha portato tre torturatori libici in Italia. Vergognatevi, europarlamentari europei della minchia. Ma vergognatevi anche per quello che dice da sinistra, con cita De Gregorio. Cioè fate i fenomeni, applaudite, caro la racchete, poi tutti zitti e muti. Sono gli stessi europarlamentari europei ai quali, caro la racchete, dice, mi applaudite, ma dove eravate voi? Dice, comprensibilmente, una che secondo me dovrebbe stare, certo, non in mare a salvare persone, ma forse a casetta sua. Detto questo, l'altro grande tema di giornata che sia Repubblica sia il messaggero, che lo usa da tanto tempo, è sotto i riflettori all'Italia, salvataggio in bilico. Secondo il messaggero, il motivo per il quale l'Italia sarebbe in bilico è perché Atlantia, la società che controlla autostrade, non sarebbe convinta del piano industriale, dovrebbe metterci insieme al 30% in questa azienda, 35%, l'Italia ha perso 10 miliardi, come ricorda oggi Repubblica negli ultimi anni, non ha intenzione Atlantia ovviamente di voler perdere soldi, sendo un'azienda privata, ma Repubblica la mette diversamente, la mette a pagina 2 e pagina 3 dicendo, Atlantia si è rotta le balle, dopo aver fatto fuori il somministratore delegato Castellucci, ha evidentemente alzato un po' la testa e dice a Di Maio e company, no, scusate ragazzi, voi volete il 35% dei nostri soldi per entrare nella vostra fallita all'Italia, volete che vi togliamo un problema e ci togliete le concessioni autostradali, dice Atlantia, belli, o siamo dei delinquenti o siamo dei salvatori, non è che possiamo avere doppio cappello a seconda di come vi piaccia di più a voi, dall'altra parte il governo dice noi non ci stiamo a questi ricatti, beh però la questione se io fossi in Atlantia sarebbe molto semplice, cioè se mi metti in galera non pretendere che poi io, in galera, dal punto di vista amministrativo e contabile, non pretendere certo che poi io ti tiri fuori le castagne dal fuoco quando si tratta di salvare la tua Alitalia, che è anche nostra per la verità, essendo pubblica. Tra poco vi voglio vedere su questa roba di caro la racchette, io voglio continuare perché si tratta di una cosa incredibile, l'applauso vergognoso e orrendo dei parlamentari europei a questa qua, ne riparlerò sul sito nicolaporro.it e vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani e al mio sito, ciao!